Ogni anno vengono acquistati in tutto il mondo miliardi di elementi di fissaggio Taptight. Le sezioni trasversali brevettate Trilobular di Taptight permettono di realizzare in modo efficiente la filettatura di diversi metalli, con un eccellente mantenimento del carico di serraggio, da cui il nome Taptight. La versione più recente è la Taptight Pro. Fin dalla loro creazione, i dispositivi di fissaggio Taptight hanno ridotto drasticamente i costi di assemblaggio per l'industria automobilistica globale e sono stati adottati per svariate applicazioni. Attualmente il Reming, insieme alla sua consociata Conti Fastners, concede licenze a più di 100 produttori autorizzati a livello globale, che nel solo 2017 hanno prodotto e venduto oltre 17 miliardi di pezzi. Il nostro catalogo di modelli nel corso degli anni si è ampliato, ma la nostra forte volontà di abbassare il costo di montaggio continua senza sosta con grande successo. Gli elementi di fissaggio Taptight sono una gamma di elementi di fissaggio autoformanti, progettata per eliminare il costo delle procedure di maschiatura, delle rondelle autobloccanti, degli elementi di bloccaggio e per eliminare la necessità di dadi e di fori prefilettati. Le nostre viti Renform sono una famiglia di elementi di fissaggio autoformanti per materie plastiche, leghe leggere e materiali a bassa duttilità. Renform 2 è la versione più recente dei dispositivi di fissaggio Renform. L'esclusivo profilo asimmetrico del filetto delle viti Renform migliora le prestazioni di formatura del filetto, riducendo al minimo le sollecitazioni radiali e aumentandone la resistenza allo strappamento dei filetti. I dispositivi di fissaggio PowerLock sono una gamma di dispositivi di bloccaggio metallici per fori filettati. Il profilo filettato 2-angle dei dispositivi di fissaggio PowerLock crea un'azione di ritorno elastico interno che garantisce un'azione di bloccaggio istantaneo in un foro filettato e che può eliminare la necessità di riporti frenafiletti, rondelle di sicurezza e altri dispositivi di bloccaggio. PowerLock 2 è il più recente design PowerLock. Se state cercando di abbassare il costo di montaggio, i licenziatari a livello globale di prodotti Remink e Conti possono fornirvi le migliori soluzioni disponibili. Remink controlla regolarmente la qualità dei prodotti con tutti i licenziatari, in modo che possiate sempre disporre di un prodotto con una qualità di livello globale. Per saperne di più, visitate il nostro sito internet, oppure contattateci direttamente al numero 4141761-5822. Le sezioni trasversali brevettate Trilo Bueller di Taptight permettono di realizzare in modo efficiente la filettatura di diversi metalli con un eccellente mantenimento del carico di serraggio, da cui il nome Taptight. Contrazione di Taptight, ovvero stretto saldamente.